Grazie per l'occasione per il professore in giacca e cravatta, capita due volte all'anno quindi fino a giugno non mi rivedete in giacca e cravatta. Questa è una bellissima giornata e lo vedo anche dai commenti che stanno arrivando su Facebook o su Twitter, perché il tentativo del sistema è di dire che la Lega c'è quando si parla di Rom. Noi non ci alziamo la mattina e andiamo a letto la sera con l'incubo dei Rom, semplicemente ritengo che in questo Paese tutti dovrebbero avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, quindi la stessa legge dovrebbe valere per tutti. Rom, finlandesi, eschimesi, giapponesi, bresciani, leccesi, tutto. Detto questo li lasciamo a Renzi, ai sindaci di sinistra e a mafia capitale, il business dei Rom, dei rifugiati e noi ci occupiamo di qualcosa di più importante. Quello di oggi è un tassello importante che mette il cittadino al centro, ad oggi lo Stato è al centro, ad oggi lo Stato ha ragione e il cittadino ha torto, perché in ogni caso il commerciante è un furbetto, l'artigiano è un furbetto, anche il lavoratore dipendente è un furbetto, lo Stato invece ha sempre ragione e noi vorremmo culturalmente andare al governo per capovolgere questa situazione. Il cittadino ha ragione e lo Stato ha torto in partenza e semmai è lo Stato che deve dimostrarmi che lui ha ragione e che io ho torto. Che senso ha? Se il professor Rabuska ieri passeggiando per le vie del centro avesse voluto fare un regalo a qualcuno tornando negli Stati Uniti e avesse avuto in tasca 1.500 euro in contanti, entrava in negozio e lo cacciavano via, perché siamo degli scemi, perché abbiamo deciso che il limite della spesa in contanti è di 1.000 euro. Che senso ha? Che senso ha? E ieri parlavo con un imprenditore che mi ha detto, non c'era la slide, ma la scelta è che mia moglie lavorava in una gioielleria ed erano in 14, adesso in quella gioielleria ci lavorano in due, perché vanno a fare acquisti in Svizzera, perché vanno in Francia, perché vanno in Austria, perché vanno in giro per il mondo. Questa è una riforma che fai domani mattina con tre righe a costo zero, anzi che ti fa incassare più, ma è la cultura della sinistra per cui tu mi stai fregando e quindi io ti faccio chiudere il negozio piuttosto e non incasso più una lira. Vi sembra normale? Non si può chiedere a Renzi di togliere domani mattina per far passare un Natale decente a quei poveri eroi dei commercianti di togliere il tetto di spesa a 1.000 euro che non ha alcun senso sulla faccia della terra e non costa niente, non costa niente. E se però spendi 35 euro devi avere il Bancomat, devi avere il Bancomat o la carta di credito, perché siccome le banche non ne hanno a sufficienza dei miliardi di euro che arrivano dalla BCE all'1% di interesse e questi reinvestono bellamente in buoni del tesoro al 3%, quindi senza cliccare un bottone ci guadagnano miliardate di euro e stanno preparandosi a lasciare a casa 30.000 dipendenti delle banche, perché più ne prendono, più incassano, più lucrano, più licenziano e bisogna aprire anche il problema delle banche perché in Italia non è possibile un sistema del genere, però ti piazzo il Bancomat e la carta di credito. E anche lì non ha senso, non ha senso, non è normale, può andare bene a Cuba, poteva andare bene in Unione Sovietica, ma non ha senso in un'economia teoricamente liberale di mercato. Sugli studi del settore si sono già pronunciati, Renzi dice che è contro i corrotti, ma costringe al falso in bilancio migliaia di persone che ci stanno perdendo, ma sono costretti a dire che ci stanno guadagnando per evitare di entrare nella macchina della tortura del fisco italiano. Sulla legge Fornero abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e io spero che non ci sia nessuno nella sede della Corte Costituzionale che sta pensando di sottrarre il diritto a 60 milioni di italiani di andare a votare il referendum in primavera e saremo dei cani da guardia per quel referendum, deve essere votato. Ci sono gli artigiani costretti a pagare la cassa edile, a fare dei versamenti IMSS per una pensione che non vedranno mai nella vita e stiamo perdendo un know-how che è tutto italiano, professore, perché appunto lo Stato italiano preferisce far chiudere per principio piuttosto che ragionare da persone di buon senso, ci sono 150 mila ricorsi fiscali pendenti in Italia, nel 40% dei casi il cittadino ha ragione, piccolo problema, per farti dar ragione devi iniziare a pagare un terzo della sanzione e quindi c'è gente che pur avendo ragione manco fa ricorso perché non ha un terzo della sanzione d'anticipazione. Non è normale, dovrebbe essere lo Stato a dare un terzo dell'ipotetica sanzione in più al cittadino per le retture di palle a cui lo sottopone, solo per semplicemente per le rotture di palle a cui lo sottopone. Qualcuno di voi si è accorto che fra 15 giorni finisce il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Qualcuno ha, a parte le foto di rito, Berlusconi magari sorrideva, faceva le corna, questo è più compito, però ha portato a casa qualcosa. C'era un dossier su cui il Premier italiano avrebbe dovuto legarsi alle porte d'ingresso del Parlamento e della Commissione Europea che è il dossier sul Made in Italy, obbligatorio, cioè l'etichettatura obbligatoria, voglio sapere quello che mangio, quello che compro, quello che vesto, dove è stato confezionato, da chi e perché. Uno, devi portare a casa un dossier, perché il falso Made in Italy ci costa ogni anno 60 miliardi di euro in tarocchi, la falsa giacca, il falso olio, il falso parmigiano, il falso vino, 60 miliardi di euro di mancato fatturato. Ebbene siamo così rilevanti a livello europeo che il Made in obbligatorio in questi sei mesi non è stato neanche discusso. Cioè non è che ce l'hanno bocciato, non ne hanno neanche parlato con Renzi, presidente del semestre europeo. Io penso che chiunque di voi estratto a sorte in questa sala avrebbe ottenuto di più dalla mafia di Bruxelles rispetto allo zero che ha ottenuto Renzi e questa è una battaglia che noi faremo da nord a sud per difendere il lavoro della nostra gente. Lo diceva il professore, lo dicevano Siri, Borghi, Leo, è una questione di mentalità perché la sinistra dice tu sei più fortunato di me, boom, ti seguo le gambe. E quindi la tassa sulle barche. Ricordate, adesso fotto quelli che hanno gli yacht, facciamo la tassa sulle barche. Chi è che ci ha rimesso? Quello che aveva lo yacht a Trieste, l'ha spostato in Croazia, quello che ce l'aveva Imperia, l'ha spostato a Monte Carlo, quello che ce l'aveva in Sardegna, l'ha spostato in Corsica. Ci hanno rimesso alcune migliaia di posti di lavoro, gli operai dei porti. Gli operai da 800 euro al mese. Per fottere i ricchi la sinistra ha lasciato a casa migliaia e migliaia di poveri. Vi par normale? Se uno è ricco perché è una cultura basata sul sospetto e sull'invidia, se uno è ricco perché è bravo, viva il ricco perché è bravo. Se uno ha la macchina bella perché se l'è comprata onestamente, viva la macchina bella. Io parlavo con un proprietario di una decina di concessionari di auto e ci sono tutti quelli che hanno auto di grossa cilindrata ma con lavori assolutamente certificati e bonificati che le stanno ridando indietro ed escono con la punto usata. Così almeno farò sì la figura del barbone ma non mi fermano. Non mi fermano e quindi preferisco fare la figura. Tutti noi abbiamo la macchina, la macchina deve andare, poi qualcuno piace farsi vedere, ma siamo alla punizione a prescindere. Quindi tu se hai il BMW o il Mercedes sicuramente qualcosa l'hai sbagliato e anche se non l'hai sbagliato entra il professore in un sistema fiscale tale per cui hai sbagliato lo stesso. Perché hai sputato per terra o non hai spento la sigaretta nel posacenere giusto o non fai la raccolta differenziata a casa tua. Quindi io ti fotto perché in questo momento lo Stato italiano si vuole e ti massacra. Poi ti dà ragione dopo vent'anni ma intanto tu l'azienda l'hai persa. E quindi è una questione di mentalità di cultura, punire i ricchi. Questi puniscono sulla carta i ricchi, fottono i poveri, poi però guarda caso chi va a votare alle primarie dei PD? I banchieri, i finanzieri, quelli che hanno spostato lo yacht. Quindi c'è qualcosa, questo vale per la tassa sui risparmi, sulle transazioni finanziarie. Adesso frego quelli che spostano i milioni di euro. Chi è che han fregato? Quelli che hanno 50 mila euro di obbligazioni perché quello l'ha spostato. E lo Stato ha incassato di più o di meno aumentando la tassa sulle rendite finanziarie? Di meno. Quindi hai rotto le palle ai soliti noti col bel risultato di incassare di meno. Quindi veramente c'è il Nobel al contrario abbiamo in Italia. Ma neanche se uno si mettesse di buzzo buono riuscirebbe a infilarle. Io ogni tanto ho il dubbio che siano pagati per farci fallire perché non è possibile infilarne. Ma come per l'Imu sui terreni agricoli di montagna. Adesso c'è già l'agricoltura in ginocchio, gli facciamo pagare l'Imu sul terreno agricolo in montagna. E come l'hanno valutata professore la montagna? Han deciso che la montagna comincia dai 600 metri. Vabbè uno deve mettersi opinabile. Vabbè 599 metri non è montagna, 601 metri è montagna. Ma qual è il bello? Che ci sono interi comuni in Lombardia che sono interamente montani ma hanno la sede del municipio a valle. E loro come le calcono i 600 metri? Sull'estensione del comune o sulla sede del municipio? Sulla sede del municipio. E quindi io invito i sindaci della Lega che hanno la sede del municipio sotto i 600 metri a trasferirli in baita, a prendere la teleferica, a trasferire la sede del municipio in baita così diventiamo comuni di montagna. Ma è veramente uno Stato che costringe, anche se sei la persona più onesta del mondo, ti viene voglia di fotterli. Perché uno affronta di una roba come questa e il grande successo del PD è che l'hanno rinviata a metà gennaio, professore. Perché qua quando hai un problema e non sai come risolverlo, lo rinvii di un mese. Quindi nel nome della certezza delle imposte che sono sacre per l'imprenditore, buh, guarda, ti remi innanzi per un mesetto. Poi ne riparliamo a gennaio, magari la spostiamo al 7 febbraio, magari facciamo 618 metri, ci mettiamo d'accordo, tu sì, tu no, tu sì, tu no. È una follia. Io penso che chi fa impresa debba avere la certezza. Quando apre l'azienda il primo gennaio deve sapere che fino al 31 dicembre non cambia niente. Il grande merito dell'aliquota fiscale unica è che tu apri il primo gennaio il tuo negozio, la tua impresa e sai che nessuno fino al 31 dicembre ti cambia le carte in tavola. Altrimenti è un casino. E poi ci sono a costo zero alcuni altri provvedimenti. Vi pare che in un momento di crisi economica come questa noi abbiamo deciso, noi che siamo la formica, abbiamo deciso, ciao, com'è che mi faccio del male? Dichiaro guerra all'elefante e quindi facciamo le sanzioni contro la Russia. Siccome già ho un'economia solida, siccome ho un'occupazione in crescita, siccome ho un prodotto interno lordo che schizza, faccio la guerra alla Russia. Perché c'è un pezzo di Ucraina che non si è capito neanche dove sia dove mi dicono che sono entrati i carri armati russi. Poi fa niente se i nazisti stanno dall'altra parte e sono loro che stanno espelendo gente che è russa da decenni, decenni e decenni. E quindi facciamo la guerra alla Russia. E quindi vuol dire che io sono andato due volte a Mosca, non per portare a casa quattrini come qualche fenomeno ha scritto, ma per dare una mano a quelle migliaia di imprenditori italiani, soprattutto lombardi, che ci hanno messo 10-15 anni per entrare in un mercato difficile come questo e per colpa di qualche cretino che sta a Bruxelles e di qualche pavido che sta a Roma, stanno perdendo milioni di euro di fatturato. Noi quest'anno rischiamo di smenarci 5 miliardi di euro. Io toglierei le sanzioni contro la Russia domani mattina, perché con la Russia si dialoga e si commercia, non si gioca alla guerra, perché è molto, molto, molto pericoloso. Perché è molto, molto, molto pericoloso. L'uomo al centro, dicevamo, e vado a chiudere, l'uomo al centro, l'uomo e la donna al centro che hanno diritto di lavorare per vivere, non di vivere per lavorare. E quindi per quanto mi riguarda l'obbligo, ad esempio, al lavoro domenicale nei centri commerciali è schierato schiavismo, non è scelta di lavoro. Quella è una nuova forma di schiavitù. Perché tu lavori per poter dedicare qualche ora della tua vita a quello che ti circonda, a leggere un libro, a ascoltare un disco, a fare una passeggiata, a andare nella barca che intanto hai spostato in Croazia. E quindi non è che devi crepare sul posto di lavoro per poter chiudere in pareggio. Quindi noi dovremmo mettere al centro anche i diritti della persona, dell'uomo e della donna, che hanno diritto ad avere una vita al di là dell'oppressione fiscale. Ma per questione di giustizia, di equità, come in uno Stato normale, professore, se ci sono imprenditori, agricoltori, artigiani e cittadini che hanno subito un terremoto o un alluvione, non devi pagare le tasse. Un Paese normale, se sei stato colpito dal terremoto o dall'alluvione, non ti fa pagare le tasse. Perché non puoi pagare le tasse. E invece anche qua stanno arrivando in Liguria, in Emilia e Toscana le cartelle di Equitalia. E qua dovremo anche organizzare delle squadre disarmate e democratiche di dissuasione e di autodifesa. Perché non è possibile che Equitalia arrivi anche a casa di chi ha spalato fango per mesi e mesi, perché non è moralmente corretto. Io ringrazio Armando, ringrazio Alvin, ringrazio voi per la pazienza e spero che voi, da oggi pomeriggio, voi come chi ci sta ascoltando via web o via radio, domani siate dei moltiplicatori. Perché i telegiornali ci dicono che questo sarà il Natale più triste degli ultimi anni. E ci credo. E ci credo. Metti insieme tutto quello che hai scritto, come fai a essere... Sì, sarà Felice Marchione, Felice Montezemolo. Però gli altri tendenzialmente non sono esattamente sulla stessa barca. Quindi mi servite, ci servite come moltiplicatori di idee. Antirassegnazione. Perché il nemico più pericoso non è Renzi, non è Grillo, non è Lacamusso. È la rassegnazione. Dire non si può... È così. E quindi... No, si può. Si può. Volendo si può. Quindi portiamo questo messaggio. Non la buona novella, per carità di Dio. Noi abbiamo rispetto a Renzi i piedi più per terra e non ci sentiamo investiti di missioni divine o salvifiche. Però cambiare si può, lavorare si può. I giornalisti poi sono appassionati di formule politiche, ma quindi allora il centrodestra, le primarie, Berlusconi, gli Accordi, Alfano... Non mi interessano le riedizioni del passato. Sicuramente chi arriverà a condurre queste battaglie deve guardare avanti. E anche il discorso ma perché non l'avete fatto qui e ora? Ic et nunc. Adesso. Se stiamo lì a rimpiangere, no, ma il Menonu nell'82, quello là è Prodi. Va bene. Però ci pagano. Abbiamo fatto degli errori. Io in primi. Sì, a voglia. Chi è che non fa degli errori? Trani Renzi tutti gli altri qualcosa nella vita sbagliano. Quindi l'importante è ragionare dell'adesso. Qui e adesso. Non stare lì a rimpiangere. Ma perché allora? Adesso. Ci pagano lo stipendio, la politica deve dare una risposta domani, non l'altro ieri. E quindi quello che noi stiamo mettendo sul tavolo lo stiamo mettendo sul tavolo perché crediamo di poterlo fare. Non per prendere i voti all'opposizione. Chi se ne frega di prendere l'opposizione? Noi vogliamo fare quello che stiamo andando a dire. Con chi? Con chi lo deciderà la storia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Lo decideranno i cittadini? Ecco, l'unica cosa su cui non cambierò mai idea è che sia il progetto che i leader, chiunque saranno, verranno decisi nelle piazze. Non verranno decisi da uno, da due, da tre, da quattro perché non devono essere i padani, gli italiani, i marziani a decidere chi farà che cosa. Quindi è inutile star qua a pensare adesso. Io ringrazio Roberto Calderoli perché si fa un mazzo così su un tema che mi provoca l'orchite, che è la legge elettorale, ma è giusto farlo perché quelli vogliono autoproclamarsi e fermarsi per i decenni a seguire. Quindi bisogna seguirli, marcarli a uomo, pezzo per pezzo. Però noi abbiamo un progetto, mi permetto di dire, è più in là di quello che dice Renzi. Cioè è un progetto anche di cultura, di vita, non solo di economia. La flat tax non è un modello economico, l'uscita dall'euro non è una scelta economica, sono scelte di vita. Vivere da persone liberi, vivere da persone con orgoglio, con dignità, con cuore. Poi chiederemo a chi è qua, e vado a chiudere anche perché è uno stato simpatico quello italiano professore, adesso il governo Renzi presuppone l'aumento della benzina. Ci hanno le clausole, i salvaguardi, non si capisce. Però contano di portare a casa sostanzialmente un altro miliardo di euro aumentando di 8 centesimi la benzina. A me piacerebbe che qualora il buon Dio e gli italiani decidessero che noi tornassimo al governo, dobbiamo anche dare dei segnali di serietà. Ripeto, è inutile star lì a pensare al passato, qui, adesso e domani. Noi andando a far benzina oggi pomeriggio pagheremo anche fra le altre imposte due lire, che non so quanto siano in euro, per il finanziamento della guerra in Abissinia del 1935. Ora è andata come è andata, è ride, ma è così, ma stiamo ancora finanziando la ricostruzione del Vajont, che onore al merito. Quindi come serietà, poi sono numeri magari piccoli, però non possiamo far pagare la guerra da Abissinia ai figli che stanno nascendo in questi giorni, ma per serietà, non per macroeconomia. Quindi sarà importante anche dare quei segnali. Io vi ringrazio perché in questo anno ne sono successi tutti i colori, ma siamo in salute fisica e mentale come nessuno avrebbe potuto pensare. Magari noi sì, fuori qualcuno no. E quindi penso e spero che sia solo l'inizio di una bellissima avventura, che non giochiamo giusto per divertirci. Io quando vado allo stadio con mio figlio e mi capita di andare a vedere il Milan, purtroppo per mio figlio è nato nel periodo sbagliato e quindi gli dico che però Federico non bisogna dire le parolacce e l'arbitro ha sempre ragione, è l'esatto contrario di quello che faccio io quando vado da solo allo stadio. Però quando c'è lui non bisogna dire le parolacce e l'arbitro, anche se non vede un fuorigioco di sette metri, però l'arbitro e l'arbitro in quanto tale va rispettato. E gli dico che anche se perdiamo l'importante è partecipare, cosa in cui non credo assolutamente, perché partecipare è bello, però tendenzialmente anche se vinci non è che ti fa schifo e noi siamo qua non per partecipare, non per una Lega in buona salute che sale. Io sono contentissimo dei nove consiglieri regionali eletti in Emilia e in Romagna, ma il difficile per loro viene adesso, perché se non saranno cani da guardia alle calcagne delle promesse mancate del PD li mandiamo a casa noi, noi cittadini, quindi fra cinque anni noi in Emilia-Romagna dobbiamo vincere, non dobbiamo aumentare di qualcosa, dobbiamo vincere e potremo farlo. E quindi vi ringrazio, vi auguro un buon Natale, sperando che non ci sia qualche preside che si offende, perché ho visto un pericolosissimo presepe all'ingresso dell'Unione del Commercio, anche qua non vorrei che fossimo indagati per essere troppo vicini a quella che è la nostra cultura da più o meno duemila anni, però fa niente, passano velocemente le cose per qualcuno e i prossimi mesi saranno i più difficili, perché un conto è crescere e un conto è vincere. E quindi se ci stiamo vicini, anche aprendoci, come Lega, facendo delle scommesse, io e Armando da quanto ci conosciamo, non da anni, non abbiamo mai fatto le vacanze insieme, ma come con Claudio Borghi, ci conosciamo da uno o due anni, a volte vai anche a naso, ti può andar bene, ti può andar male, però se un progetto ti convince come Lega dobbiamo avere anche la forza di capire fino a dove e fino a chi ci dobbiamo aprire, con estrema cautela in alcune zone evidentemente, visto la cronaca di questi giorni, però dobbiamo imparare a contaminarci e a contaminare, contaminarci con idee di energie fresche di altri, a contaminare con le nostre idee di energie senza cambiare mai natura. Siamo e sempre saremo la Lega Nord, siamo autonomisti, siamo federalisti, siamo indipendentisti, siamo per la libera scelta dei popoli ovunque il buon Dio li abbia messi sulla faccia della terra, quindi sono gli uomini e le donne che devono decidere con chi e perché vogliono stare. Non possono essere gli stati a dire tu sì, tu no, tu sì, tu no. E quindi vi ringrazio, ringrazio il professor Rabusca, ringrazio Armando, ringrazio ciascuno di voi che siete qua in sala e ringrazio chi ci ha seguito e mi permetto solo alla fine di acconsentire una richiesta di un nostro militante della Romagna, che è un militante non vedente, perché oggi è Santa Lucia e quindi Santa Lucia per molti bimbi significa festa, significa gioia, però Santa Lucia è anche la protrettice dei ciechi e dei non vedenti. E fra le stranezze, professore, ci sono, fra i risparmi di questo Stato che non sa più dove andare a raccattare soldi, al momento, a differenza di tutti gli anni precedenti, non ci sono 6 milioni di euro per l'Unione Italiana ciechi. Io penso che uno Stato che va a portare via soldi a chi già parte da un gradino di difficoltà in più è uno Stato delinquente, perché risparmia dove vuoi, taglia dove vuoi, ma non puoi andare a rubare nelle tasche di un disabile, di un ipovedente o di un cieco totale che magari con quei soldi trova un posto di lavoro o si paga le spese per il cane guida. E quindi questi 6 milioni di euro, con le buone o con le cattive, il Governo li deve trovare da qualche parte e deve rimetterli nelle casse dell'Unione Italiana ciechi che non li usa per andare a fare shopping in Monte Napoleone. E quindi mi ha chiesto di mettere questa felpa. Io oggi mi sono messo in giacca e cravatta e l'ho fatto molto volentieri. Mi tengo la camicia, però per onorare l'impegno che avevo preso con i ragazzi dell'Unione Italiana ciechi, chiudo con la felpa che dice giù le mani dall'Unione Italiana dei ciechi, perché anche questo significa essere uno Stato equo. Vi ringrazio, vi saluto, mai mollare. Potete anche alzarvi in piedi per applaudire Alvin Rabusca. Grazie. 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 Grazie.